ah c'era più gente qui c'è più gente su qui nel bosco che in piazza rassi ma mamma mia che tristezza vedete il casentino è così oggi cercheremo di fare un corso su come trovare i funghi e riconoscere i funghi perché è importante è sentito anche questo giocatore di football americano che si è che ha preso una manita e fa loide si è sentito male ma ho visto ma era venuto un casentino a cercare non lo so comunque ragazzi le speranze sono poche perché ho detto c'è più gente qui che è in piazza e quindi niente qui si può trovare giusto l'umore verde rosse acerbe vabbè come ho detto solo funghi balordici sono qui perché ormai il bosco è diventato un punto di raccolta si una vergogna non lo so io vabbè quando troveremo un fungo li chiameremo li chiameremo niente io non trovo non vedo oh 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 è qua guarda qui ma te è una valuta una mazza pazza insomma servirebbe il cortello per tagliare il gamba il cortello? è il cortello questo dici? mamma qui proprio gente professionale siamo ma guarda qua guarda ci penso piglielo te piglio io? piglielo te va ma guarda qua andate qua vedete? si riconosce dall'anello ragazzi l'anello è importante questo no su mettiamolo via sentite buono? sentite? eh sono i fonghi dei casentino speriamo di trovarne dell'arte udite udite c'è gente nel bosco fanno un casino della madonna ecco come fanno i rassina boys va a vedere con i ricci pronto? vai vai tira tira andate via qui ci sono i rassina boys schifosi nonostante la concorrenza i rassina boys trovano sempre noi non vi diciamo cose ma ve ne rendete conto vedete la bello? ecco quindi avete capito i rassina boys li trovano sempre anche se c'è concorrenza dobbiamo dare anche una guida ragazzi perché sennò vi fate male voi vedete? questo è l'anello ma non è una barucola della serie di fidarsi dalle imitazioni capito? no perché qui non ripeto la cassa da sudi non andate a cercare i funghi senza un esperto chiamateci se volete da soli non andate perché farei cosa vedete? uno qui coi tutti questi funghi e poi non si ritrova la barucola e invece va a casa e muore ragazzi state attenti mi raccomando sono quasi serio madonna ma sono cattivi però non ci fanno crudelli ma manca un fungo è una cosa niente però si sente un po' dolore di di boletus satana è un boletus oh porca oh porca no no mi sa che non si rende lì guarda rivediamo un po' guarda qua questo sarà guarda un chilo e due proprio un chilo e due mi pezzo un suo figliolino guarda un suo figliolino lì ora guarda porca merda mamma mia oh di nanti ricopri qui ricopri perché? perché almeno ci rinasci ricopri ricopri guardate guardate qua un boletus satanas ricordate il posto ricordatevelo voi ragazzi mamma mia ritorneremo nei prossimi giorni certo per cercare altri boletus perché noi siamo fan di boletus no no zoom ma voi non sentite l'odore maiala madonna ma peso senti qua questo è pieno ah bene quando i rassina boys ricordiamo la loro natura impervia sono nati i rassina boys per cercare i punti e non sarà l'ultimo non è il polcino del buon Gesù che dopo questo non ce ne sono più madonna che sei tu Tommy c'è il fiume qui sotto che cazzo va va tanto noi siamo gente di siamo campagnoli guarda il fiume andiamo aspetta venga anch'io se beve no non cor ma che non c'è il polcino ma sarà no c'è il polcino aspetta la sassi proprio la sassi si ma no allora si rompe coglione che l'ho detto prima ah sei ragione chi ce l'avrà messo chi sarà stato una forma divina hai ragione ma guardate e continua a ridire quant'altro allora ora sei arrivato bevi là metto il polcino assicuro guardate quanti fiumi ti hai trovato no vabbè c'è l'arte tuba ruggile ma sono da un'altra parte su bevi quest'acqua e rompi i coglioni su come l'è fresca fresca di montagna si scusate ragazzi per le condizioni di quello che poco abbiamo trovato oggi pioveva anche come sarà messi ragazzi ma quando il bosco chiama l'uomo risponde ora potete vedere il bellissimo mezzo con il quale siamo venuti a cercare sì sì vabbè comunque vedete per farvi vedere che il rasino boys aspetta e ci picchiare ok vedete sapete cosa è questo il bollettino fa andare a cercafunghi noi siamo a regola noi siamo a regola non come tutta la gente che va a cercafunghi senza testa perché noi se si fa una cosa non si va a beghe ecco perché non si venga a dire che il rasino boys infrangono la legge rispetto per il rasino boys ecco che il rasino boys non hanno mai infranto la legge mai ecco mai mai mai